Il funteggio finale costituirà il voto finale con il quale ogni abito sarà classificato. Sono previsti in tutto 5 premi, uno per ogni categoria, abito storico, abito più moderno, abito più sprint, miss favola e poi il primo premio assoluto, miss stile ed eleganza. Ci siamo, iniziamo con la sfilata vera e propria, una buona visione a voi e un buon divertimento e buon divertimento anche a tutte le partenze a 7, accompagnatore Matteo Santucci. Grazie a tutti. E questo è l'abito numero 1. Intanto si prepara l'abito numero 2, l'abito di Giancarla... Grazie a tutti. 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 ...questa bellissima passerella, Daniela Bellincampi, con l'abito della signora Gina Spaziani spostata con Vincenzo Bellincampi, il 19 agosto 1966. Grazie a tutti. 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 Arriva in passerella anche l'indossatrice numero 4, Melania Cianfrocka Maria Luisa, sposata con Giancarlo. Matrimonio è celebrato presso Vico, nel Lazio, il 27 luglio 1971. e la piccola Stefania Cesta E si prepara l'indossatrice numero 5 Valentina De Filippi con l'abito della signora Antonietta Straccamore sposata con Angelo Maria Volpari a Tecchiena Nozze celebrate il 19 settembre 1971 Daniele Campoli E si è presa a calcare questa bellissima passerella al cospetto di questo fortissimo pubblico l'indossatrice numero 6 Annalisa Sarandrea con l'abito e l'accompagnatore Emiliano Pica Annalisa Sarandrea e con l'abito di Anna Urgolo sposata con Gildo De Filippi Grazie a tutti Alessia Cianfrocca con l'abito di Tiziana Padovani Spostata con l'accompagnatore Roberto Tarquini Spostata con Pacheco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E si prepara Sara Palmisani che risponde al numero 10 con l'abito di Elena Cecchetti sposata con Marco Palmisani. Il 22 giugno Milaisti. Grazie. E vogliamo sentire l'applauso di questo bellissimo pubblico presente qui questa sera. Grazie a tutti. 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 Ed è il momento anche della numero 12 Michela Quadrotta che indossa la civita accompagnatore Venanzio Pica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. E si posiziona anche la concorrente numero 14 accompagnata da Matteo Evangelisti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E facciamo un piccolo passo indietro per la concorrente numero 13 Martina Marcheggiani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.